Ragazzi, questo posto per me è davvero speciale, così caldo, raffinato, accogliente. Hai ragione, Leonora, guarda che arredamenti. È vero, guarda che bella quella madia. Ma certo, perché siamo da toni in casa, per questo è splendida. È una madia con finitura in legno zebrano, quattro comode ante e una struttura in tamburato che la rende stabile. Ma spostati, Graziano, che ti faccio vedere io. È un tavolo allungabile con telaio in alluminio e top in vetro temperato che dà un'eccezionale sicurezza. Però comoda questa sedia? Eh sì, sono sedie rivestite in vera pelle e come tutti i prodotti Tonin sono riconoscibili dal marchio Tonin in casa. Ma, Leonora, quante cose sai? Eh sì, io adoro Tonin in casa. Puoi trovare veramente tutto per l'arredamento. Dal porta tv orientabile in metallo ai tavolini in vetro curvato, tutto studiato da un gruppo di designer esclusivamente per Tonin in casa. Ed è anche il top dell'efficienza. Infatti esporta il nostro design, tutto made in Italy. E lo puoi trovare solo nei migliori negozi di arredamento e sul sito www.tonincasa.it. Bene, adesso non ci resta che ho una bella cenetta. Eh no, tu intanto vai, noi arriviamo tra un pochino. Tonin in casa ci piace tanto! Tonin in casa, amore di casa!